Il Padre e il Figlio dello Spirito Santo, così sia, si è rodato Gesù Cristo. Ali fedeli, ecco che con la quarta domenica dopo Pentecoste, inizia quella lunga serie di domeniche dopo Pentecoste, che dunque sono celebrate con il colore verde, il logico verde, il simbolo della speranza, dopo dunque aver festeggiato la morte e la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, la sua ascensione al cielo, l'invio dello Spirito Santo sugli Apostoli, la festa della Santissima Trinità prima domenica dopo Pentecoste, la festa del Corpus Domini della Santa Eucaristia, il cui poi centro è il cuore stesso del nostro Signore Gesù Cristo, riassunto simbolo stesso della umanità, del corpo umano e quanto più del suo dunque sagratissimo corpo che è presente sotto le specie del pane e del vino secondo la sostanza proprio e il suo corpo che è presente. Ed ecco che possiamo come dire che il resto di queste domeniche è la celebrazione del mistero della Chiesa, quel grande divino e umano però divino istituto che Gesù Cristo ha istituito per continuare la sua opera di salvezza tramite la sua chiesa fino alla fine dei tempi. Ecco che quando leggiamo l'orazione del giorno concedici, te ne preghiamo Signore che le vicende del mondo si svolgono per la tua disposizione nella pace e la tua Chiesa possa rallegrarsi di servirti in tranquilla serenità per Signore Gesù Cristo, abbiamo quasi l'impressione che questa orazione sembra essere come soprafatta dagli avvenimenti perché insomma le vicende del mondo in tanta pace non sono che in tranquilla serenità la Chiesa anche non sembra essere e pertanto invece lo sguardo e non solo lo sguardo, la realtà di fede che ci fa vedere, osservare, contemplare, la realtà naturale è quella che ci fa riconoscere in ogni cosa che sta succedendo appunto la infinita divina, maestosa, misericordiosa è giusta mano di Dio, perciò è da leggere quello che si vede comunque con le parole di San Paolo della creazione che genera, noi stessi dice che siamo le primizie dello Spirito Santo, cosa vuol dire? battezzati, cresimati e vivendo da bravi cristiani facendo il nostro dovere, ebbene noi stessi gemiamo dentro di noi ed è sicuro che se Dio permette quello che sta succedendo e certamente qualche uno giustamente dirà sì per sempre è successo, è vero, però non ha per esempio nel mondo nell'era cristiana in modo così generalizzato, guerre di sensi sempre esistiti, ma in un modo così generalizzato, ma poi per quanto riguardiamo la cristianità certamente, invasioni islamiche tra virgolette sempre state, anche per secoli state, e in un certo senso, anzi relativamente parlando più di adesso, se pensiamo le tantissime ignorevoli incursioni dal VI al IX secolo soltanto in proporzione era molto di più di quello che non sta succedendo adesso, e lo stesso quello che sta succedendo adesso, con il coinvolgimento appunto di quello che sarebbe la società civile e quello che sarebbe un gran mistero senza esserlo la presunta chiesa cattolica, quello sì che ha un mistero, ha un lato molto misterioso, però nel quale Sant'Agostino con la spiegazione di questo bellissimo evento della pesca misericordiosa ci illumina e ci rasserena e ci fa veramente, fiducesamente e tranquillamente e in serenità contemplare e osservare e poi anche partecipare, certamente invitando il nostro Dio di Cristo quello che sta succedendo, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio spiega questo passaggio del Vangelo, spiega prima come Gesù Cristo era letteralmente assalito dalle folle, non aveva pace neanche la sera dopo il calare del sole ed ecco la ragione per la quale anche per certamente poter parlare alle folle utilizzando tutto quel momento anche acustico di parlare sull'acqua e farsi sentire come un anfiteatro dalla grande folla, sale nella nave, si distacca dal litorale e parla e parla e allora Sant'Ambrogio appunto ci ricorda che quella stessa nave che una volta sta affondando nei flutti del mare, un'altra volta ripiena della pesca miracolosa ed ecco che abbiamo un grande bel insegnamento. Dunque non si turbi questa nave nella quale navega la prudenza nella quale è assente la perfidia le quali vele sono spinte dalla fede. Dunque quella nave può essere anche battuta dai flutti ma in quella nave vige sempre tranquillità, serenità dove è assente la perfidia e le cui vele sono spinte dalla fede e governate dalla prudenza. e finisce poi questa sua spiegazione dicendo tutto quello che crediamo o perché lo vediamo o perché lo sentiamo, lo odiamo con gli occhi e dice per quanto riguarda la fede la vista può essere ingannata, l'udito no. La vista può essere ingannata per quanto riguarda la fede l'udito no. Pensiamo bene, pesiamo questo tanto. Quando San Paolo dice ai garati, quando vedrete uno fare un po' differente da me, anatema si, no. Quando vedrete uno che forse non veste che o meno, no. Quando oderete qualcuno che vi insegna un'altra cosa, anatema si. Andate e insegnate. ci hanno detto, andate e fateli vedere, fate questi gesti, fate questi movimenti, vestitevi così, vestitevi così, vestitevi qua là e chi si vestirà così e farà come me, farà questi gesti, saranno no, no. Insegnateli, dite loro cosa Dio ha detto perché la rivelazione è formalmente Dio che parla. Che grande consolazione. Perché quello che Gesù Cristo ha detto è assolutamente salvato e tramandato per duemila anni e lo abbiamo oggi. Certamente, certamente, qualcuno che ci viene a dichiarare anche in aereo, in varie conferenze di stampa, il dogmo oggi non vale più. è anatema. E sicuramente non è la naricola. E lì sì che c'è da tremare. Chi richiara in aereo l'inferno è un literal device, un'espressione letteraria. Ah, sicuramente, sicuramente non può ingannarci. Sant'Ambrogio ce lo dice e Sant'Ambrogio è un grande. Vado nella chiesa. Possiamo essere ingannati dalla vista. Certamente, eh, lì vaticano, vestito di bianco, in aereo, il Papa. Però l'udito non mi inganna. È un'altra, è completamente un'altra legge. Completamente un'altra fede. E allora cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che la nostra, la nostra più profonda la serenità è sempre di più da cercare, cari e fedeli, in Gesù Cristo. Non in quel modo dissoluto e disperato, anche forse sì, non c'è in principio, anche forse, in buonissima fede carismatico, no? Nella perdita di sentire la fede, di riconoscere la chiesa, possiamo dire, milioni di cristiani. si sono buttati nella prossima, soprattutto in Sud America, nella prossima qualsiasi proposta cristiana che mi parla un po' di Dio, di Gesù. Ecco, sì, si vede. Però cosa c'è di vero in queste masse infinite? Parliamo per esempio del Sud America che sono gettate nelle sette. Non cerchiamo qualche cosa ad aggrapparsi. No, tante volte c'è molto di più. C'è veramente il desiderio di aderire a Gesù Cristo. Però ci vuole così poco per sbagliare. Ed è lì, ed è lì che invece Santo Agostino nel secondo notturno ci insegna, dice, guardate che se Davide ha vinto Goliade, l'ha fatto solo perché era la figura di Gesù Cristo che ha vinto Satana. Cosa vuol dire? Gesù Cristo ha vinto Satana e l'ha legato stretto. E Satana è legato stretto. E Santo Agostino subito fa a lui l'obiezione. Ma mi diranno, se Gesù Cristo ha vinto Satana, com'è possibile che tante anime erano, si perdano, peccano, muoiono, si dannano? Risponde Santo Agostino con una semplicità sconcertante. Dice, è certo, dice, se il cane è legato a una catena e tu per negligenza e superficialità ti avvicini al cane a una distanza inferiore di quella catena, è sicuro che ti mordi. Satana è legato, purtroppo, alla grande massa, ma non per cattiveria escogitata con tanta malizia e tanta, tanta violenza, no? Per negligenza e superficialità, no? Si interessa delle poche verità rivelate. Dieci sono i comandamenti, non è il codice civile penale che vede, dieci sono i comandamenti da subito. Per negligenza e superficialità si dimentica, e poi non bisogna dimenticare che si dimentica di aver dimenticato. Questa doppia dimenticanza mette tranquilla la coscienza. Prima volta rubo del negozio del bambino, sto male i 15 giorni. Seconda volta, però, era comunque, buona sta mela, ne prendo ancora una. Non mi ha detto mai niente a nessuno, va bene, ho passato un anno, si ruba, ma annegramente. E così il bambino, come siamo noi adulti, le prime volte, la seconda volta, e più si fa, meglio, più si impara e più si prende anche familiarità e perfino anche comodità, anzi, piacere nel pecare, diventa addirittura un piacere. L'inizio è sempre una piccolissima negligenza, una piccolissima superficialità. E tutte le cose, non è che si fanno oggi e domani, non è una lunga storia. Allora vedete, se noi siamo di fronte a questa situazione nella quale viviamo, allora dove si cerca disperatamente una salvezza, chi in questo statista, chi in quest'altro. Poi di colpo, dopo aver due, tre anni, quattro, cinque, messo tutte le speranze in questo grande statista, lo vede mano in mano col grande nemico, dicendole senza si e ma con te. Allora è grande, grande delusione, cosa da fare? Se Dio permette tutto questo, permette di rivelare a chi cerca la vera ed eterna felicità. E che in Gesù Cristo, che non dimentichiamoci, si è fatto un uomo. E che con la sua gloriosa resurrezione, preceduta da quei dignimonevoli miracoli, ha pur anche dimostrato che San Paolo non parla da invasato quando dice che anche lui geme nel suo corpo aspettando la gloriosa resurrezione. Era un invasato, una persona estremamente con i piedi su terra come anche San Pietro, la gente volutamente scelta da Gesù Cristo, assolutamente gente semplice, anzi più che semplice non San Paolo ma San Pietro, lenti a capire, per dare a noi tanta più credibilità di questa certezza della divinità di nostro Gesù Cristo e della vera e unica felicità in Lui, non solo nell'eternità ma già qui su terra. perché se Gesù Cristo ha affrontato a 360 gradi tutta la realtà e poi non solo nel suo tempo ma pensiamo perfino anche nel passato e nel futuro. Con molto rispetto, con molta riverenza, con le ginocchia piegate, ma non abbiamo paura, osiamo contemplare cosa succedeva in Gesù Cristo quando davvero l'uomo pensava, agiva, faceva, pativa. Ci spiega San Pietro Canisio in una bellissima lettura in questo Tava del Sacro Cuore che Gesù Cristo quando pativa, pativa e desiderava e gustava già la consolazione della Margarita Maria Lacocque che in Chiesa pregando consolava il divin cuore, ma non perché Gesù Cristo aveva bisogno di essere consolato. aveva voluto voler avere bisogno della consolazione perfino che doveva scendere un angelo dal cielo per consolarlo e potergli fare reggere la passione. Ma perché lui non si è contentato di dire io vengo, pago il debito, strappo la fattura, il debito e dichiaro inocente il reo e la rea umanità, ma questa opera della nazione non solo semplicemente ce la dà, ce ne fa partecipare. Lui vuole assolutamente, e l'è rivelato, noi dobbiamo completare nei nostri corpi quello che manca alla passione del Cristo, non che lui non avesse già patito perfettamente e per tutta l'umanità, ma ha voluto la nostra partecipazione per la nostra salvezza. Chi ti ha redento senza di te non ti salva senza di te, dice sempre il Santo Agostino. Allora tutto questo, cari fedeli, dobbiamo veramente ammettere che sono realtà e verità rivelate che noi preghiamo, ricordiamo, che ci fanno comunque allora pregare con certezza l'orazione del giorno, concediti, ne preghiamo Signore, che le vicende del mondo si svolgano per tua disposizione e la pace e la tua Chiesa possa rallegrarsi di servirti in tranquilla serenità. Eh sì, perché il cristiano che serve il suo Dio, qualsiasi sia la situazione, da glorioso trionfatore che avrà cacciato i musulmani dall'Europa o da suora umile nelle missioni alla quale viene tagliata la testa, e sempre serena tranquillità il nostro Signore Sardinio Bristolo. E dobbiamo certamente aspirare a questa gloriosa liberazione della nostra civiltà da l'invasione islamica e con loro mandiamo anche via quelli che ci hanno portati. Benissimo. E al contempo nella stessa serenità nella quale Dio ce lo concedi, festeggeremo quella vittoria, anche con il nostro Signore Cristo saliamo in croce, con Lui dobbiamo ridorgere, con Lui dobbiamo morire, comunque qualsiasi cosa ci capita sempre in questa soprannaturale serenità doveva essere, lo so, parole. Perciò chiediamo per l'intenzione della Santa Vergine Maria di ottenerci la grazia di farlo e vivere da Nure del Padre del Figlio Santo per così sia serenità a Gesù Cristo. Sì, Gesù Cristo.